Awa naga amici e amiche, benvenuti a questa nuova puntata qui su Wows of Lordi, sono Lorchic e siamo su Fenix Point Prima di cominciare vi ricordo se volete di entrare su Discord, trovate il link sotto per così chiacchierare e scambiarci opinioni anche su questo gioco e su altri Inoltre vi ricordo che per gli amanti di Space Engineer ho un progetto in corso con già 7 video, se siete interessati il progetto è aperto, trovate sempre su Discord tutte le informazioni Quindi niente, partiamo col gioco e andiamo a vedere un attimo l'interfaccia grafica Allora, dato che abbiamo fatto l'ultima volta il tutorial, questa volta ci troviamo in una schermata nuova, quindi vorrei studiarmela per bene Allora innanzitutto partiamo dall'alto, vediamo un po' cosa sono tutti questi numeri colorati Allora, questa è la tecnologia, risorse per costruire oggetti ad alta tecnologia Ok, quindi abbiamo 150 e intanto il più zero probabilmente è qualcosa di produzione Qualcosa che ci permette di avere ogni tot punti tecnologia 700 materiali, risorsa per costruzioni generiche Ok, 497 cibo, risorsa per nutrire e reclutare soldati Questi sono i soldati, quindi la capacità di tutti gli alloggi è 8 e noi al momento abbiamo 5 soldati Veicoli in possesso, capacità di tutti i garage Pelivoli controllati da Phoenix Point E questi sono i magazzini Spazio usato, capacità di tutti i magazzini Ok Poi abbiamo gli obiettivi, va in un sito inesplorato Vabbè essere anche questo, ok, perfetto Prima di andare al sito inesplorato però vediamo un attimo Allora, questo vabbè, fa andare avanti o indietro Avanti o indietro, magari indietro Avanti il tempo Abbiamo, ok, l'accelera tempo Ok, si può accelerare il tempo Questa è il registro dagli eventi Quindi riparazione di garage presso Phoenix Point completata Che è l'ultima cosa che abbiamo fatto Dopodiché abbiamo un altro pannello Ok, questi sono i velivoli posseduti Abbiamo la posizione Phoenix Point Quindi quei rombetti lì dovrebbero essere i gradi dei nostri soldati Infatti 5 disposizioni di posti sulla Manticore 6 Infatti capacità 6 Velocità va a 500 Portata a 2500, penso chili per quanto riguarda i materiali E la robustezza è a 100 Questi sono invece i nostri, esatto Quindi i cecchini sono così Questi dovrebbero essere gli assaltatori, esatto E questi pesanti, ok, perfetto Ok Basi Allora Ok, questo c'entra come su Google Maps C'entra la posizione della mappa Scusate, della base sulla mappa Scansione area 1% Ok, abbiamo un collegamento satellitare Scansione un'area intorno alla base Individua siti di interesse Le colonie Pandora che attaccano i rifugi Da un punto interno all'area di scansione Vengono immediatamente scoperte Ok, spegni alimentazione, ripara struttura o demolisci Perfetto E consuma 2 di energia Abbiamo gli impianti di fabbricazione Una struttura adibita alla fabbricazione di armi Armature, equipaggiamento e veicoli Ok, i generatori di energia Una struttura adibita generale energia Fondamentale per far funzionare molte altre strutture Laboratorio di ricerca Un po' come su XCOM Dopotutto Una struttura controllata dall'IA per tutti i progetti di ricerca Ok, questa volta non c'è dentro una persona Ma è controllato direttamente da un computer Ti dà un'intelligenza artificiale Poi c'è l'infermeria Tutti i soldati alla base Anche se assegnati ad un verivolo Recuperano 4 punti feriti all'ora Per ogni struttura medica presente nella base UK, alloggi Tutti i soldati alla base Anche se assegnati ad un verivolo Recuperano 2 punti resistenza all'ora Per ogni alloggio presente alla base Ascensore di accesso Punto di schieramento Permissioni difensive e via di fuga Se le cose si mettono male Ok, questa frase Punto di schieramento Permissioni difensive E via di fuga Se le cose si mettono male Mi fa presagire che Potrebbe essere un attacco da parte Degli alieni E che quindi noi entriamo effettivamente All'interno della base Quindi la base In quel caso la possiamo vedere in 3D Questo mi fa ben sperare Magazzino, struttura Per riporre tutte le armi Munizioni, equipaggiamento Armatura, capacità E condivisa tra tutte le basi Ah, ok Ok E in questo caso Questa base Ha 1, 2, 3 slot Che possiamo Costruire Probabilmente gli altri No, non si sblocca Mi sa che è finita qua questa base Probabilmente O sbloccando questi Si sblocca gli adiacenti Però mi sembra strano Perché per esempio Questi sono sbloccati O probabilmente ci saranno Basi molto più Molto più grandi Da costruire Questo è il personale alla base Quindi 5 I velivoli alla base I veicoli Il consumo di energia Andiamo poi sul personale Personale abbiamo La salute Ok Qua innanzitutto È A cosa sono assegnati Quindi in questo caso La avanti corre 1 E infatti Possiamo scegliere Di trasferire Di trasferire Alla base O sulla Ok Perfetto Questo Slot oggetto in uso Vuoti 1 di 3 Ok Vabbè Probabilmente dovremmo ricaricargli Comunque Questi sono Abbiamo I gradi Che identificano la classe Del personaggio Il livello Il nome Salute Resistenza Assegnazione In base Se siano su un velivolo Alla base Poi abbiamo I vari attributi Con Attenzione Però qua Oh Sì Molta roba Allora Modifica unità Anche Vediamo poi tutto Allora Salute Resistenza La forza La volontà La velocità Percezione Precisione Furtività Gli oggetti pronti Addestramento Da cecchino Ok Dopodiché Abbiamo Fazione originale Penix point Ok Anche qui Mi fa presagire Che potremmo Prendere gente Da altre fazioni Va bene Inizio servizio Vabbè L'anno Inizio del servizio Numero di missioni Zero Uccisioni totali Zero Ok Il tutorial Non l'hanno contato Poi ci sono Tutte le abilità Le tre più utilizzate L'equipaggiamento Preferito Ok E le uccisioni Dei nemici Anche qui In base Secondo me A Quante uccisioni Facciamo Su un nemico Secondo me Potrebbero Esserci Il fatto Che più Ci di Una specie Più Riesci a ammazzarla Velocemente Nel senso che Più acquisisci Parametri Per cui Riesci magari A beccare meglio I punti vitali Della creatura Insomma Almeno Così Penso Poi Sono supposizioni Ok Qua abbiamo La modifica Della Dell'unità Ok Abbiamo dieci punti Ragazzi Possiamo Ok Assegnargli Più forza Più volontà Molto bene Questo è figo Qui abbiamo Lo zaino Con sei slot E le armi In uso L'armatura Questo è lo zaino Con i vari filtri Ok Che adesso Sono Tutte le classi O tutte O soltanto Ok Qua è L'equipaggiamento Di tutti Quelli Che ci sono In questo momento Nella Sul manticore Ok Perfetto Va bene Questa è una cecchina Qui possiamo Anche cambiargli Nome Quindi Boh Se avete dei nomi Fatevelo sapere Abbiamo Oh Abbiamo Innanzitutto Dei gradi Qua Fino a 7 E delle abilità Che si possono Sbloccare Man mano Ah Interessante Allora Allora Adesso metterei Un po' La Ok 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 Un punto sulla volontà Possiamo anche togliere O riassegnare Ad altro Ah Io direi Personalizza Ah Ma c'è una Personalizzazione Allora Ok Ok Pensavo non si potesse Personalizzare Invece si può Personalizzare Vabbè Lirina la facciamo Con i capelli A spazzola A questo punto Ma si Receiving Can't wait I can make a difference Ready Ok Questa Gli diamo Ah Figo Cazzo Fighissimo Fighissimo Colore secondare No no È come su XCOM Ragazzi È come su XCOM Figo Bello Anche i disegni D'armatura Bellissimo Eh Questa parte qua Io non la sapevo Vedete È L'or Che è andato avanti Troppo velocemente Si è saltato Tutta una parte Vabbè che poi L'altra volta Abbiamo finito il tutorial Quindi ho dovuto Chiudere Per non andare troppo Per le lunghe Eh Ok Non abbiamo Nient'altro Però direi che Che basta In questo caso Poi abbiamo Nelmetto Nascondi elmetto Va bene Direi che Si non ha Tutta la personalizzazione Eh Di XCOM Però 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 non è male Ok Allora A questo punto Torniamo indietro Vediamo se c'è Qualcos'altro Da Da vedere No Perché questi No li abbiamo ancora Sbloccati Ok Va bene Torniamo al globo Muoviamo i nostri eroi Nel punto Nel sito inesplorato All'inizio Tutti i siti del globo Sono inesplorati E segnalati Da un punto interrogativo Hai bisogno di avere Almeno un soldato A bordo del velivolo Per esplorarli L'esplorazione Richiede tempo E potresti cadere In un'imboscata Perciò Sta in guardia Esplora il sito Sul sito Per mostrare Il menù del sito Per esplorare Esplorare Quindi lui lo esplora E Sitio di recupero Prendi delle casse Quanti più oggetti Ti è possibile Trasportare E fai evacuare La tua squadra Gli rinforzi di amici Continueranno ad arrivare Dalle aree Contrassegnate Con questo simbolo Ok Va bene Avviamo La missione Ok Qua ci fa Possiamo anche scegliere Che soldati portare Questo c'è un problema Di Di armi Il problema che adesso È Eh Mannaggia Vabbè Probabilmente Glielo Glielo Potremmo Ricaricare Durante la La missione Vediamo Bello Il manticore Bellissimo Il manticore Mi piace Il design Previsione dei danni Allora Fenix Point Usa un sistema Di previsione Dei danni Il 100% Dei tuoi spari Finirà nel cerchio Esterno Il 50% Dei spari Finirà Nel cerchio Interno Più vicino Al nemico E più precisa L'arma Maggiori Saranno Gli spari Che finiranno Nell'area Desiderata Consiglio Trattico Sui tritoni Hai incontrato Un nuovo Nemico Il tritone Stai allerta Questi mostri Scaltri Valgeranno Per il campo Di battaglia Accogliendo Ogni opportunità Per accerchiarti Ok Quindi Se loro Cercano Di accerchiarci Converrebbe Tenere sempre Un po' Il perimetro E mai Il mezzo Cazzo Con la roba Lì U Vediamo già Della roba Abbastanza Allora Aspettate Com'è che erano i tasti I Ok T e G Per Ok Allora Vediamo Io Ti faccio Già andare Un attimo Così Attenso Tipo Era lì Quindi Potremmo Anche Metterci Qua Così Ok Cazzo La cecchina È quella Più Vabbè La cecchina La possiamo Anche lasciar Lì Ma questo Non può Far tantissimo Passiamolo qua La cecchina La cecchina Però Potrebbe Mirare A lui Proviamo Ok Parti del corpo Fuori uso La parte del corpo Di questo personaggio Ha subito Danni ed è ora Fuori uso Le parti del corpo Fuori uso Hanno un effetto Negativo Sull'abilità Delle unità Di usare Armi Abilità Le parti del corpo Fuori uso Non possono essere Ripristinate Ma l'effetto Di stato Sanguinamento Che causano I punti ferita Persi Possono essere Curati Con un kit medico Perfetto Ragazzi Quello abbastanza Fregato Ah mannaggia Mi ha sbagliato Allora Facciamo così Ah mannaggia Um E tu, se nel caso quello lì viene di qua, spari qua, qua così. Ok, direi che... direi che... ok, tu va bene così, fine turno, va bene, proviamo un po' a vedere che cosa succede. Questo cos'è? Ah ok, questo non si muove. Consiglio tattico, la bruma. Una sentinella della bruma ha iniziato a spargere bruma virale attorno a sé. Gli agenti Fenix che entrano nella bruma perderanno punti volontà e nemici conosceranno la loro posizione. I Pandora che entrano nella bruma ripristano i loro punti vita. Ok, quindi fa da cura per i Pandora e invece per noi sti cazzi. La bruma non si dissiperà e potrà essere rimossa solo con armi da fuoco ed esplosivi. Esplosivi, sì. Ok, perfetto. Oh, vediamo. Perfetto, mi ha dato. Questo è un Arthron, ok. Allora. Ah, caspita. Andiamola qua intanto. E te ti muovi proprio poco. Te conviene che ti metti... Eh... Ti metti a sti cazzi, ti metti. Ma andiamo qua a lui. E niente, continua, continua. Continua. Ok, perfetto. Allora, questa casa contiene un pacchetto di risorse. Se viene portata fuori dal campo di battaglia tramite una zona di evacuazione, le risorse saranno aggiunte a quelle già in tuo possesso. Le risorse sono essenziali per il successo del progetto Fenix, poiché servono per costruire strutture, fabbricare equipaggiamento e reclutare nuovi soldati. Ok, quindi il... No, ok, non abbiamo punti sufficienti. Vabbè, intanto stiamo qui. Dovemmo poi portarle lì o qua. Ok. Allora, vediamo un attimo. Te ti metto qua. Ah, caspita, non vede il tizio. Ah, perché è dietro? Io direi. Vai, come leoni dalle termopili, ragazzi. Questo qua, questo non lo mettiamo a sparare di lì. Questo lo mettiamo a sparare in questa posizione qua. Ok. Un po' più larga che se ne alcanza solo entrasse qualcuno da questo campo qua. Ok. Perfetto. Questa invece mi può sparare a lui. Quindi F. Oh, ragazzi. I tuoi soldati attivi non hanno più punti azione. Vuoi terminare il tuo turno? Eh, yes. Continuo a spargere bruma. Vabbè. Oh, rinforzi infiniti. Questi fonti di rinforzo continueranno a generare nemici all'infinito. Non devi raccogliere tutte le risorse per completare il tuo obiettivo. Prendi ciò che puoi ed evacui i tuoi soldati prima. Porca vacca. Ok. E ne abbiamo uno, tra l'altro, qua vicino. Non per... Non per... Non per... Ok, perfetto. A questo punto inizierei a muovermi. I'm here. Ok. Ok. Allora, consiglio tattico. Ingover. Se il peso dell'armatura e l'equipaggiamento che i soldati trasportano il maggiore della loro forza, soffriranno una penalità di movimento. Ok, però intanto la penalità di movimento... Mandiamolo qua, dato che qua c'è... Eh, lo so, è un po' pericoloso mandarlo lì, però almeno lì ho copertura. Ehm... Ok. Buono, buono, buono. Uuuuuh. Fantastic. Questo lo vede? Ah no, questo ha già sparato. Questo non lo vede, ma lo lascerei a questo punto anche qui. Quindi, Y. Ehm... Potremmo... Non so effettivamente da che punto potrebbero arrivare i nemici. Ma di sicuro arrivano da qua, quindi farei così. Con questo. Con questo. Ah, non ha ricaricato perché aveva zero punti... Ah, zero caricatori aveva, cazzarola. Uh, questo invece ne ha uno, ok. Caricatori zero, vabbè, però c'hai un sacco di munizioni, quindi va bene. Ehm... Non possiamo far più nulla. Ah, qui c'è un altro, tra l'altro. Ok, eh, io andrei magari di qua che... Qua così che... Non si sa mai. Qua ci espandono la bruma, tra l'altro. Eh, guardate come si espande, mamma mia. Eccolo. Zone di evacuazione. Una volta raccolto tutto il bottino possibile, evacua tutti i tuoi soldati dal campo di battaglia attraverso una zona di evacuazione. Non devi prendere tutto, quindi non corre rischi inutili. Vabbè, è quello che aveva letto prima. UG. 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 UGK. Allora, questo. Su. Mi vai qua. Tu. Mi vai qua. Tu, invece, mi vai qua così. Tu. Mannaggia, è fuori copertura, caspita. Forse lei riesce. Ok, perfetto. È andato. Dovrebbe essere sparita anche la bruma. Non è sparita, ma... Eh, suppongo sparirà nel prossimo turno. Ok. Ma tu puoi anche metterti... Eh, sì, dai, facciamo così. E що... O... E' un buon per armi. Ok. eccolo aia ecco che c'era l'altro dai prego grande mamma mia grandissimo grandissimo casto sto stronzo non far fuori quel coso lì di qua dovrebbe essere sparita è tanto mica tanto che è sparita certo se spariamo la roccia la vedo dura la vedo dura ok uno è evacuato questo che potrebbe andare a recuperare il bottino di lì quasi quasi quindi potrei farei sempre una roba di questo genere che non si sa mai via questo sta ma è una roba allucinante sta arrivando quasi da noi eh questa non è sparita tra l'altro cazzo quindi non sparisce allora proviamo ad andare qua magari lo becchiamo meglio stavolta eh sì eh sì molto meglio ok ok disattivati ok allora zone di punti volontà le zone di punti volontà sono aree del campo di battaglia con vantaggi strategici entrando in una zona di punti volontà con uno dei tuoi agenti ti permetterà di ripristinare i punti volontà di tutta la tua squadra ricorda che i punti volontà non possono superare la volontà massima di un soldato una volta attivate le zone di punti volontà scompariranno e non potranno essere utilizzate ok mettiamoci in guardia non so da dove non so da dove ma proviamo da qua ok te ti faccio andare vediamo un po' dove ci sono altre zone da prendere cazzo queste qua però sono con belle pelete allora una è lì eh altre zone abbiamo una cassa qua una cassa là allora io ah due casse abbiamo qua una e due tenterei di andare a prendere queste due qua anche se passare per quella nebbia lì non è che mi ispiri molta fiducia però cazzo volete farci eh e lì stanno le casse ti metterei qua tra l'albero e il ok ok eccolo che lo sapevo lo sapevo dove è andato aia mannaggia mannaggia ne abbiamo un po' ragazzi ne abbiamo un po' stavolta allora con calma che ce la facciamo con calma che ce la facciamo ok 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 abbiamo danneggiato una chela perfetto perfetto tu quanti tu hai un caricatore quindi potrei anche poi farti va bene ok hai comunque ancora due munizioni tanta roba tu invece eri quello che non aveva più munizioni ok allora io a questo punto direi che questo non gliele faccio sprecare e lo manderei insieme a questo come supportino anzi a questo lo ottenerei per la guardia lo ottenerei eh si per per gli attacchi in guardia lasciamo perdere quello che magari riusciamo a farlo anche con a parte che è lontanissimo vediamo vediamo che cosa riesce a fare aia 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 è un'angolazione un'angolazione difficile mettiamoci un attimo qua dietro va nell'angolino e ci mettiamo in ok no non ho più non ho più soldati attivi lui 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 che possiamo mettere uuuuh dai grande grandissimo voleva entrare nel buco e invece l'abbiamo bucato noi badonna ragazzi supertattiche o ok lì c'è qualcuno potrebbe entrare anche da qua quindi io direi di mettere lui qua così o da su beh se entra da su non dipende da dove entra cazzo potrebbe entrare da qua allora facciamo così cerchiamo di stanarlo ok se non nel caso se fare il furbetto lo freghiamo subito ok e anche tu ti metti qua così vediamo un po' cosa succede subito curioso eccolo eccolo ok mi ha messo lì lo stronzetto scusate scusate allora allora aspettate un attimo che guardo una cosa inventa ma solo questo praticamente vabbè ma solo quello quindi è messo un pelito male come la sol ma il tizio è lì noi potremmo andare da nessuno potremmo andare anche qua a sparargli vediamo un po' solo eh poco e questo ormai a a a 12 di 36 36 di 36 munizioni ok no no vabbè ne hanno ancora tante comunque a parte il caricatore che ne hanno ancora questo non ho capito perché va beh dai ok perfetto abbiamo seguimento fuori uso il braccio ok sta a questo punto te mi vai finalmente a prendere un po' di roba ok 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 dai dai c'è chi a cazzo effetto di stato sanguinamento il tuo soldato è stato ferito e ora ha un effetto di stato sanguinamento prenditi cura dei tuoi soldati sanguinanti essi continueranno a perdere punti ferita ogni turno finché non verranno curati con un kit medico cazzo marca miseria che aveva il kit medico lui yes tu cazzo gran cazzone finisci finisci male ma ma non male malissimo vendi cazzio ragazzi adesso arrivo compare vengo io a curarti non lo possiamo usare ok oh ripristinato ragazzi oh perfetto lui non può più muoversi lui beh lasciamolo lì non lo possiamo usare Ok, ok Due, addirittura due Ok, uno è lì, perfetto Comunque ti direi di metterti qua Allora Tu potresti farmi fuori questo Buono, buono, buono sanguinamento Che ci piace tanto E tu invece mi fai fuori questo qua Però Però Ti avvicini qui Ok, adesso con gli altri due copriamo Copriamo il perimetro Ah no, lo vede anche tra l'altro Ehm No Mi metto in Preferisco Preferisco di gran lunga Ok, e anche tu Vai Grande Grandissimo Questo adesso si muove E lei spara Eh, vabbè Ma che cecchino No No, no, no Povero Ma no, povero Questo è il nostro puntaspilli Cecchino Sei inutile, cazzo Eh, provo a spostarti qua A questo punto Provo a spostarti un po' vicino Cazzo Volete che vi dica Abbiamo un cecchino Sembra il ritorno di Dai Chigoto Cazzo In piastre Ehm Vediamo un po' Chi ha un kit medico Io spero che questa Ci abbia un kit medico Non ha un kit medico Infatti Lei ha un kit medico Lei ha un kit medico Per esempio Cosa buona E molto giusta Quindi spariamo con questo Proviamo Vendicazio Quasi Cazzo Abbiamo solo sei colpi No, no Aspetta, aspetta Aspetta, aspetta Facciamogli sparare con lui Va Cazzo Zero di 36 No E lui E' diventato Inutile Dai Andiamo a prenderci Almeno quella cassa qua Dopo Dopo Nisba Andiam Ce ne andiamo Porca vacca Eh, niente Cazzo Questa che mi dica Receiving Ok, non c'era nessuno Questo Questo Vabbè Questo non sta sanguinando Quindi Potrei anche tenerlo Vai Scatto Come se non ci fosse un domani Adesso questo non può Ok, però abbiamo un bel po' di roba da prendere Quindi va bene Lo Lo difendiamo con i nostri Ok, vediamo un attimo Punterai in questa direzione Io quasi quasi Ok Te cecchina Qua così Eh, te Te Sei 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 Abbastanza Essendo quasi Inutile Possiamo recuperare anche quella Partiremo proprio col botto Ragazzi Ho paura Ok Grande Bravissimo Bravissimo Bravissima Sofia Brown Scusate È la migliore Irina Sokolova Invece Soka Mamma mia Veramente grande Lei La nostra Sofi Allora Aspettate un attimo Che Inventerio Ok Perché Dove è pistola Fenix Allora E a questo punto Ti direi Fammi qua Granata Odi Tanta roba Allora Questa è Il fucile Assalto Fenix Caricatore Pistola Fenix Quindi non No Questi sono Fucili Fenix Non Pistole Wet Pistola Questa è la pistola Ma che cazzo Vabbè Niente Allora Facciamo così E la mandiamo Qui Lui A questo punto Lo manderei Qui Lui Invece Mi dice che Non può far più Una minchia No Infatti Lo avviciniamo Adesso Occhio di Falco La guardia Vediamo un po' Non mi Facciamo così Ok Tocca ancora a noi Molto bene Molto bene Il punto di evacuazione È solo No C'è anche qua Il punto di evacuazione Oddio Anche qui Ma non c'è Non c'è Qui Non c'è Qui No Abbiamo preso Tutte le casse Ragazzi Non c'è più Nessuna cassa In vista Eh vabbè Allora torniamo Indietro Piccoli passi Tu sei quello che No Tu hai ancora Una scarica Di colpi Ok Sei te quello che Non ha più niente Mannaggia Mannaggia Ok Abbiamo tutti i lati Più o meno Più o meno a posto Ok Ok Oh lo vedi già Tu non lo vedi invece Allora Allora Ready I'm going in Vediamo Quella Tanta roba Grande Grandissima A questo punto ti direi Torna Torna qua Eh Vediamo se lui riesce a No però potrebbe mettersi in guardia Anche lui Magari con un raggio ancora più ampio E Tu Portati qua intanto Eh lui però non può fare niente perché non ha neanche un caricatore Mannaggia Mettiti qua allora Vediamo un po' cosa succede Ok non si è mosso il tizio Non ho capito dov'è andato Ma da qualche parte è andato Quindi io direi Tac Questo lo portiamo qui Eh Tac anche lui Tu invece Ah no tu non puoi fare una minchia Eh Tu invece Di qua Vediamo Mamma mia Mamma mia Vabbè dai Vediamo un po' se possono entrare tutti nel A posto ragazzi Li facciamo andare via L'area Non la puliamo perché è tanto inutile Cioè possono andare via tutti a posto A posto così Dovremmo aver preso Missione completata Sette di recupero Abbiamo un bel po' di punti Eh Ok I pacchetti sono raccolti Sette di sette Posto ragazzi Nuovo livello Irina Sokolova E Ok 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 Tarkashisata Sofia Brown Mi va Il povero Takashisata Quello che ha subito ferite Poveretto E non ha preso neanche Cioè Oltre il danno Anche la beffa Ragazzi Povero Takashisato Non ti voglio un bene Ok 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 Al complemento della mia missione Tutti gli oggetti e le risorse raccolti Vengono aggiunte alle tue scorte totali I soldati si stancano in battaglia E perdono un punto di resistenza ogni turno Il massimo è 10 a battaglia Quando la resistenza di un soldato Scende sotto il 20% Il soldato viene penalizzato Di un punto azione Nella battaglia successiva Ok I soldati possono recuperare la resistenza Se non ti riposando la base A fatto che la base Abbia degli alloggi Un'infermeria in funzione Di ricerca abbiamo I progetti di ricerca Hanno un'importanza cruciale Nel migliorare le tue capacità E permetterti di ottenere vittorie sul campo Per velocizzare una ricerca Costruisci più laboratori di ricerca Le ricerche Richiedono tempo Perciò assicurati che Questa stia avanzando Nella scheda globo Analisi atmosferica Ok 13 ore Perfetto Ok A questo punto direi Felix Point Ok Sono tutti trasferiti E via Bene ragazzi Direi di Di Terminare qui Intanto il Il gioco Ecco la ricerca Qua la barra che Va avanti Direi intanto che Salvo la partita Qua sul nuovo salvataggio Mettiamo Prima missione Fatta Dato che siamo già Praticamente A Quasi un'ora Di Gameplay Direi che Posso finire qua Niente Io spero che il gioco Vi piaccia E vi aspetto Sul discord O sui miei social Nelle live Su Twitch Probabilmente Porterò anche questo gioco In live Se ha un po' di successo Insomma Se ha un po' di seguito E Niente ragazzuoli Restate come sempre Sutilizzati E